Pressione in calo sul Mediterraneo occidentale, sul Golfo del Leone e asse del promontorio sub-tropicale in spostamento verso est e il sud dell'Italia. In Toscana, martedì 22 giugno, in prevalenza poco nuvoloso, durante la notte ed in mattinata locali addensamenti di nubi basse, in particolare sulle zone costiere e sull'arcipelago. Nel pomeriggio locali annuvolamenti sulle zone interne, venti deboli a regime di brezza, mari poco mossi, temperature in aumento. Sul territorio provinciale sereno poco nuvoloso con locali annuvolamenti, a Lucche sulla Piana temperatura minima 17, massima 30 gradi, in Valle del Serchio e zone montane minima 16, massima 30, a Via Reggio e sul Litorale minima 20, massima 26 gradi. Mercoledì prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso, con nebbie e nubi basse su zone costiere, temperature stazionarie.